Arianna, impiegata responsabile dell'ufficio, promozione del territorio di Bergamo, della provincia e della regione Lombardia dal 2007 più o meno, alternato tra l'aeroporto e la regione di Bergamo, la mia seconda casa, il fatto che sia un lavoro dinamico, allegro e giovanile, perché tutti i giorni mi mette a contatto col mondo, ascolto la radio, un po' di tutto.